Chiara Ferragni, la decisione nel mezzo della crisi con Fedez. Recentemente l'influencer più famosa d'Italia ha confermato che non è un periodo semplice per lei tra Pandoro Gate e rottura col marito. Nei giorni scorsi l'imprenditrice digitale a che tempo che fa ha dichiarato? La rottura con Fedez. Vediamo se sarà definitiva. La nostra non è una strategia e per questo ringrazio chi mi segue da tempo e mi supporta. Loro mi comprendono al 100%. Federico e io eravamo molto simili, anche per come abbiamo comunicato sui social ma abbiamo rinunciato alla privacy. Io continuerò a raccontarmi così. Intanto Fedez ha lasciato la casa di famiglia e l'ultima indiscrezione su Chiara Ferragni parla di un altro cambiamento in arrivo. Ancora una volta a pomeriggio 5, che sta seguendo da vicino la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, ha lanciato un'indiscrezione sulla coppia. In particolare sull'influencer. L'inviato Michele Dessi ha rivelato, ti posso raccontare Mirta che oggi è stata una giornata molto silenziosa per Chiara Ferragni. Ha pubblicato delle storie Instagram un po' o farlocche, che erano di ieri. È uscita poco fa con l'auto da questo garage. Poi è arrivata la voce bomba, Chiara Ferragni potrebbe lasciare presto l'Italia. L'inviato di pomeriggio 5 ha rivelato che l'imprenditrice digitale sarebbe pronta a lasciare il paese per qualche giorno. Andare fuori dall'Italia. Il primo viaggio dopo l'inchiesta sul Pandoro. Forse in America. La diretta interessata non ha ancora confermato la voce. E non è chiaro se si tratti di un viaggio già previsto, come quello di Fedez qualche giorno fa, oppure se si ha solo un modo per ritrovare un po' di privacy. Quel che è sicuro è che è iniziata una nuova vita per Chiara e Fedez, da separati. Lei nel ruolo di mamma, mentre lui trascorre il tempo tra Milano e Rozzano, dove vivono i genitori. E intanto si muovono i rispettivi avvocati.